Andantino e Allegro è un'opera inedita di Umberto Giordano, composta nel 1945 a Milano. Il manoscritto venne presentato per la prima volta in assoluto nel 1992 in un'asta di Satebis e acquistato dal comune di Foggia assieme ad altro materiale giordaniano. È una composizione appartenente alla tarda produzione dell'autore. Questa composizione è capace di raggiungere un grande livello di difficoltà sia dal punto di vista tecnico che musicale con continui microeventi sonori caratterizzati dalla difficoltà tecnica di aggiungere un suono timbrico. Il ruolo del cantante all'interno dell'opera giordaniana viene affidato questa volta alla voce del violoncello. Grazie a tutti!